Si è molto parlato della presunta gravidanza di Chiara Ferragni, fidanzata dal rapper Fedez, nonché fashion blogger di fama internazionale. Da red carpet della mostra del cinema di Venezia, che l'ha vista sfilare per la prima volta con un pancino sospetto, le voci di una dolce attesa per la coppia più social d'Italia si sono moltiplicate, senza trovare conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Chiara Ferragni ha anzi soffiato sul fuoco pubblicando qualche giorno fa uno scatto che la ritrae con un abito frada, composto da gonne top. Anche qui sembra di notare una protuberanza sospetta in zona ventre, solitamente ultra piatto. La didascalia non è meno sospetta, anzi gioca un po' sull'equivoco, visto che recita Prada Baby Girl 4 Boff 500 Gala Dinner. In molti hanno commentato il post facendo le congratulazioni alla Ferragni, immaginando che la didascalia si riferisse all'arrivo imminente di una femminuccia. Sarà veramente così? Successivamente Chiara ha pubblicato altre foto nelle quali il pancino non è in evidenza. Certamente sia lei che Fedez sanno bene come tenere sulle spine i propri fan, quindi se una cicogna è effettivamente in viaggio, continueranno a disseminare i loro profili di indizi finché la cosa sarà impossibile da nascondere.